E però, signor Presidente, io mi aspettavo stasera, rispetto a quella che è il ragionamento che lei ha fatto, una possibile soluzione. C'è atti e fatti certi. Io pensavo che lei venisse in aula a dirmi, abbiamo necessità di avere X per il recupero del... No, se lei lo dice subito dopo, io sospendo l'intervento e lo riprenderò dopo. Lei deve decidere, signor Presidente. Non le dispiace, siccome qualche anno di esperienza nella vita giova, se lei pensa di venire qua a fare il furbo, ha sbagliato il posto. Questa è l'aula consigliare a cui lei deve rispetto e deve rispetto anche rispetto alle cose che dice. Mi scusi la ripetizione. Allora, se lei viene in quest'aula, lei ci deve venire con l'intenzione di farci capire che cosa sta accadendo all'interno del Carnevale. Se poi dobbiamo trovare una soluzione che è quella di uscire i carri dell'anno scorso, lo decidiamo insieme in quest'aula ed eventualmente una soluzione rispetto alla compromissione definitiva del Carnevale stesso. Chiaro? Io sono fra quelli che ha sostenuto la sua venuta in aula la volta scorsa quando le dissi andiamo avanti insieme con coraggio. E fui anche criticato, devo dirle, da alcune parti politiche di questa città. Ma non me ne frega nulla. Io ho avuto sempre il coraggio delle mie azioni. Si immagini che cosa me ne può fregare delle critiche che possono arrivare dall'una parte o da un'altra parte. Il problema è, caro signor Presidente, capire qual è la situazione reale rispetto alla manifestazione. Cosa che non abbiamo capito. Bellissime parole, bellissimo discorso se lei l'avesse fatto a loro. Qua siamo ad Alcireale. Abbiamo bisogno di concretezza rispetto al percorso. Lei mi deve dire, la città è inibita per X giorni. Non mi può dire che ora vedremo con i funzionari comunali, con voi. Io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, non sono un geometra. Non la posso aiutare da questo punto di vista. Lei mi deve dire, io con il supporto dei tecnici comunali che l'amministrazione mi ha messo a disposizione, ho bisogno di 180 ore, di 180 giorni, di 180 mesi. Questo è quello che mi deve dire. Rispetto alla possibilità di non fare il carnavale quest'anno, che io posso condividere, attenzione, se c'è un'esigenza, perché è impossibile non fare la manifestazione. Significa compromettere per sempre il carnavale. Lei mi deve dare anche la soluzione per il futuro. C'è come uscire da questa gabbia. La deve dare a lei. La posso dare io. L'aula ascolta e poi le può dire se è d'accordo o non è d'accordo. Ma io non ho visto soluzioni.